Sono tre, e due, e arriva solo uno, e ho vinto io! Ogni gesto vuol dire qualcosa, questo esiste solo in Italia, no? Andiamo a vedere dove lavora il tuo padre, dai! È lui! Finché, intorno, tutto è cambiato. 21 novembre 1974, due bombe sono scoppiate al centro di Vamila. Noi abitavamo al centro del quartiere irlandese. No, no, are you okay? Are you okay? Gesù mi piaceva perché faceva miracoli, come Spider-Man, no? Gesù, ciao, sì, sono Lasus. E mio nonno fa, va bene, normali, era Natale. Hanno visto una loro fichi? Ma non c'erano fichi. Allora, Gesù si è arrabbiato. Uno, due, tre! Dai, andiamo a mangiare questa spaghetti polinese. I love that story. Adoro di tutti. È solo quando la macchina è due metri di antia... Dai, go fucking, yeah, Matthew. Bo. Quanto è bello? Quanto è bello? Palli, 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 palli. Ma se, Matthew. Oh, welcome, go away. Ci sono tanti italiani che vogliono, quando vedono che sei inglese, vogliono praticare l'oro inglese con te. Which is good, which is fine. E lui fa, no, 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 always, mai, never, mai, never, never. Scusa, abbiamo tirato fuori tre cadavide e possiamo mangiarli. Lei è mezza italiana e mezza inglese. La grande voglia di vivere italiana e dall'altra parte è puntuale. La grande voglia di vivere italiana e la grande voglia di vivere italiana e la grande voglia di vivere italiana. Grazie. 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 Applausi. Grazie. Grazie. Grazie.